Ciao, io sono Katie Fusco. Mi trovo a San Bernardino, in Svizzera, dove trascorro la maggior parte del mio tempo quando non sono in turne. Sono davvero onorata di suonare per il Global Festival of Action delle Nazioni Unite. Per la mia performance ho scelto di suonare al tramonto, che ha un momento inafferrabile per eccellenza, e dove tutto scorre molto velocemente, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per confrontarmi con il ritmo della natura, perché aspetta a noi adattarci ad esso e rispettarlo. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce, la temperatura, il vento, l'energia. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce. L'ho scelto per la mia performance è un'unica, come la luce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.